Ciao a tutti! Oggi prepareremo il tè freddo alla pesca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più due ore di riposo in frigorifero. Gli ingredienti sono acqua, zucchero, bustine di tè e pesche. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 10 minuti. 100 gradi, velocità 1. Posizionare il cestello, mettere le pesche e le bustine di tè. Chiudere con il coperchio senza il misurino e lasciare in infusione fino al raffreddamento. Trascorso il tempo, rimuovere il cestello, trasferire in una brocca e riporre in frigorifero per almeno 2 ore. Tè freddo alla pesca! Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!